Svestiamoci due, la seconda iniziativa di raccolta abiti, quindi indumenti usati e a questa volta abbiamo aggiunto anche i giocattoli. Abbiamo scelto con il Cesseram di collaborare di nuovo con l'amministrazione comunale e abbiamo cambiato l'associazione di volontariato dove noi raccoglieremo e daremo questi abiti. Abbiamo scelto l'Ampiv, che è l'associazione nazionale privi della vista e i povedenti. Bene, oggi è sabato, già siamo oltre una tonnellata e mezzo di abiti. Domani e domenica saremo di nuovo in piazza fino alle 12.30. Sono convinto che supereremo la soglia delle due tonnellate. Questo grazie alle persone, alla sensibilità delle persone di Guardavalle e anche fuori dei paesi limitrofi. Quindi una grande sinergia di volontari, una grande sinergia anche delle istituzioni, quindi dell'amministrazione comunale e l'Ampiv. Quindi diciamo che stiamo proseguendo con il Cesseram, ovvero con il Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle, le nostre iniziative come erano programmate. Bene, abbiamo fatto questa, vorremmo fare di nuovo quella della raccolta del multimateriale ed anche della carta. Però questo poi vi aggiorneremo a breve. Voglio anticipare una notizia, che con la raccolta dei tappi a breve consegneremo una sedia a rotelle ai servizi sociali del Comune di Guardavalle e a disposizione dei cittadini. Speriamo che non servi, però se qualcuno ha bisogno poi può richiedere questa sedia a rotelle ai servizi sociali del Comune di Guardavalle facendo una semplice richiesta e poi la può usare e poi la può ritornare. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Voglio ringraziare tutti i volontari che oggi e domani saranno con noi. Ringrazio Guardavalle Onlani che come sempre è presente in queste iniziative. E niente, l'appuntamento è domani in piazza domenica dalle 8 alle 12.30 per raccogliere di nuovo questi abiti. Abiti e giocattoli, anche se sono usati. Voglio precisare che dagli indumenti che non si possono più usare come indumento, come questa maglietta, io non la posso mettere più perché è bucata, avrà una seconda vita anche se ha un buco perché da lì vengono prodotti il pezzame ed altri tessuti. Quindi tutto quello che è indumento, tutto quello che sono giocattoli anche rovinati possono essere riciclati. Grazie e arrivederci alle prossime nostre iniziative. Ciao. Grazie.